È la sera della prima e una grande star nel fiore degli anni cade morta sul palco scienico. Oh mio Dio, il mio protagonista è morto! Sta succedendo davvero? Beh, insomma, chi siamo senza un omicidio? Polizia di New York, il colpevole è uno di voi ed è in questa stanza. Il mio spettacolo è appeso a un filo, te ne rendi conto? Trovare l'assassino è l'unico modo per mettere in scena il tuo spettacolo. Vi va di fare un podcast con me? Mio Dio, come smielato! Troppo smielato, troppo. Si indaghiamo? Si indaghiamo, sì. Guardate che cast, sono tutti bravi da morire. Ma chi voleva così tanto uccidere Patti? Forse è stata Loretta. Ti prego, non arrenderti con me, io non sono brava nella lettura del copione. Arriva un temporale. Non è la serata giusta per vagare fra gli scoli? L'hai fatto davvero pena. Ora dalle il ben servito, prima... Forse è stata Kimber, l'attricetta dipendente da TikTok. Forse l'ha fatto solo per creare un memmè. Perché lo dici in quel modo? Forse ho trovato una pista. Tobert! E ti metti a indagare con quel tizio? Dunque, Oliver Charles, di cosa parlavi? Più che altro di omicidi. E di come collegare il bluetooth. Di quello parliamo molto. Siamo sulla buona strada, ma ho bisogno che attiri l'attenzione subito. Non è niente di che, è un poco di che. Una cosa molto piccola. Perché sei molto piccola. Il tuo spettacolo è una trappola mortale. Oggi sono quasi morto tre volte. C'è qualcuno? Ero intrappolato. Sono passati anni. Ho la barba. È il Saturday Night Live? Sei sparito per venti minuti. Il teatro è tutta una questione di scelte. Cosa raccontare e cosa tacere. Dai, un indizio. Sono scelte che cambiano tutto. Dobbiamo farla parlare. So parlare con le ragazze. Sei sicura? Sì. Ragazzi, tutto bene? Ciao, mitica. Sì, stai tranqui. Siamo qui tipo a parlare di lavoro. Spacchiamo, spocciamo. Eh, sì. Oh, non credo a parlare più. Perlomeno avete tenuto il cadavere lontano dal palazzo questa volta. Travi sempre le parole giuste, Uma.